Un saluto a tutti i videoascoltatori e ai partecipanti della fiera GECO Expo. Iniziamo nuovamente i lavori della nostra sessione con un tavolo molto particolare legato all'innovazione dei processi produttivi, in quanto l'innovazione di questi processi produttivi, della lavorazione e di raccolta nel mondo dell'agroalimentare italiano e non solo, appare come una carta vincente a disposizione di organizzazioni e imprese del settore per promuovere modelli di sviluppo sostenibile, innovativi e rendere operativi anche gli strumenti tecnologici, che vuol dire adottare una visione olistica che sappia coniugare aspetti essenziali delle dimensioni della sostenibilità, quindi ambiente, economia e sociale, e favorire contemporaneamente la creazione di reti solidali di collaborazione e cooperazione tra gli operatori del settore. Nel tentativo di approfondire tali dinamiche e approfondire le opportunità e le innovazioni generate in tale settore, abbiamo il piacere di illustrarvi alcuni relatori che oggi parteciperanno e ci diranno la loro su queste innovazioni e progettualità in corso. Abbiamo con noi Simona Mincione, del project manager dal 2014 della società Enco SRL, società di consulenza nel settore dell'innovazione, che annovera un portafoglio di più di 20 progetti finanziati sui fondi Horizon 2020. Abbiamo con noi Elena Kadel, psicologa ed esperta nel campo del cibo e della sostenibilità, affascinata dalle problematiche relative al rapporto tra cibo, società, persone e ambiente, e componente della fondazione Barilla. Con noi ci sarà anche Sara Roversi, presidente dell'Istituto Future Food, esperta di innovazione nelle filiere agroalimentare e nonché esperta di sostenibilità, promotrice di numerosissimi progetti di innovazione sociale, cooperazione internazionale e cooperazione agroalimentare. In ultimo, ma non per ultimo, abbiamo anche Veronica Lattanzio, chimica, e primo ricercatore presso l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È convinta come project leader e coinvolta in diversi progetti, sempre legati alla ricerca nazionale e internazionale in ambito di sicurezza alimentare. Direi di partire subito i nostri lavori, cedendo la parola al nostro primo relatore, che è Simona Mincione, che illustrerà un progetto davvero particolare riguardo la conservazione e tutela, posso anche dire, di prodotti legati innanzitutto al ortaggi e frutta. Ma cedo volendieri la parola a Simona per capire bene la realtà societaria innovativa che compone e anche le particolarità e l'innovazione, anche in ottica di sostenibilità, di questo particolarissimo e importante progetto. Prego Simona. Grazie mille Domenico, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Sì, io presenterò il progetto Scelti, progetto sulle tecnologie non termiche al servizio della salute e per preservare la freschezza degli alimenti, in particolare di frutta e verdura. Quindi vedremo nel corso di questa presentazione, innanzitutto un breve escursus su come è nato questo progetto e quali sono i due casi business case che abbiamo pensato per dimostrare le tecnologie e dimostrare l'innovazione nel settore agroalimentare che proponiamo e forniremo una serie di dettagli su quali sono i risultati attesi e soprattutto quali sono gli impatti, quindi le ricadute che avrà questa innovazione sulla filiera agroalimentare. È interessante poi capire come un po' l'analisi che abbiamo condotto sui consumatori, su come percepiscono l'innovazione e l'utilizzo di queste nuove tecnologie per frutta e verdura e alla fine vedremo con delle fotografie e delle immagini di che tecnologie stiamo parlando. Faccio prima una breve presentazione su chi è Enco e Domenico ha ben introdotto la società. Enco è una società italiana di consulenza che si occupa prevalentemente di europrogettazione e nell'ambito dei progetti europei finanziati prevalentemente da Horizon 2020, ora da Horizon Europe che è il programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione della Commissione europea abbiamo diversi progetti sia nel settore agroalimentare che nel settore della circolare economy dei materiali critici come vedete in questa slide. Ma ora ci addentriamo più sul focus di questa presentazione che è appunto il progetto Scelti e sicuramente è un progetto come dicevo finanziato dal programma Horizon 2020 quindi a valere su fondi per la ricerca e l'innovazione e in particolare Scelti Project risponde al bando e ha risposto alla call della Commissione europea per sostenere la sicurezza e la sostenibilità nei processi di produzione degli alimenti ma soprattutto a sostegno della competitività delle imprese agroalimentari in particolare per micro, piccole e medie imprese con l'obiettivo generale ed è qui il topic cardine di Scelti quello di garantire un cibo che sia salutare e soprattutto sicuro per i consumatori Horizon finanza questo progetto al 100% quindi riceviamo contributo al 100% di circa 7 milioni di euro per una durata di progetto di oltre 4 anni Il coordinatore come dicevo appunto è Enco e vediamo appunto nella prossima slide da chi è composto questo partenariato si tratta di un consorzio di 20 organizzazioni di diversa multidisciplinare provenienti da diversi paesi europei tra cui l'Italia, la Germania, la Danimarca, la Spagna, il Belgio e la Serbia in totale quindi siamo 20 partner tra organizzazioni, centri di ricerca, università, imprese, produttori primari che collaborano insieme appunto per innanzitutto per testare queste tecnologie ma anche per validarne gli effetti positivi anche con il coinvolgimento di consumatori Passiamo alla slide successiva e vedremo invece quali sono gli obiettivi cardine del progetto Scelti in particolare la combinazione di tecnologie non termiche Perché le tecnologie non termiche? Perché solitamente gli alimenti vengono processati e conservati con metodi di pastorizzazione quindi ad alte temperature che vanno in qualche modo a detrimento delle proprietà nutrizionali naturalmente presenti in cibi freschi quali appunto frutta e verdura Un secondo obiettivo è quello di estrarre in maniera sostenibile dei composti attivi dagli scarti o dai coprodotti dei processi di produzione per ricavarne appunto dei composti che potrebbero addizionare quindi che potrebbero dare un valore aggiunto a succhi e smoothies quindi affrullati Un terzo obiettivo è quello di invece di testare e di edificare proprio dei modelli di business innovativi che siano sostenibili per adottare, per implementare in maniera semplice per le imprese queste nuove tecnologie perché nei processi di innovazione non sempre ecco le imprese hanno quella capacità e hanno dei modelli di business che sono compatibili a recepire l'innovazione e ad integrarla nel proprio modello di business Un altro obiettivo è quello poi di testare queste tecnologie che sono state combinate, implementate a livello laboratoriale poi in ambienti rilevanti appunto presso le imprese E infine queste tecnologie che cosa fanno? Vengono messe in modo quindi in ambiente industriale e da cui si ricavano poi frutta e verdura quindi prototipi di prodotti che saranno testati dai consumatori per capire innanzitutto se il gusto è rimasto invariato e soprattutto se viene accettato dal punto di vista sensoriale oltre che a garantire ex ante quindi tutta una serie di parametri quali sicurezza alimentare quindi cibi che siano sicuri per i consumatori Questo appunto è l'impianto di scelti Successivamente quindi possiamo vedere qual è l'ecosistema che c'è dietro questa struttura di obiettivi ovvero in un approccio farm to fork si parte dal produttore primario si arriva al consumatore quindi ai lati dell'impianto con modelli collaborativi che appunto secondo la nostra idea è un sistema innovativo di recepire queste tecnologie e vedete due linee la verde e l'arancione la verde è il caso studio relativo a frutta e verdura di quarta gamma o minimamente processati la linea arancione invece rappresenta il processo produttivo di smoothies quindi di frutta e verdura Cosa ci ha spinto a realizzare questo progetto e a pensare questo progetto? Sostanzialmente da un bisogno proveniente dai consumatori I consumatori quindi noi tutti cosa richiediamo? Richiediamo che i cibi siano freschi, che siano salutari, che siano convenienti dal punto di vista economico sostenibili quindi prodotti e processati con metodi che siano compatibili e quindi eco-friendly prodotti localmente a noi piace tanto il chilometro zero e che siano additive free quindi privi di additivi ma soprattutto che abbiano un elevato valore nutrizionale quindi che ci nutrano e che siano sicuri Accompagnato diciamo a questa esigenza del mercato del consumatore vogliamo comunque recepire quelli che sono i bisogni delle imprese quindi in questo equilibrio tra imprese agroalimentari e consumatori abbiamo realizzato scelti Ma cosa richiede l'impresa? L'impresa naturalmente richiede che i processi e le tecniche produttive siano comunque sostenibili, siano efficaci, non siano eccessivamente costose appunto per l'impresa ma soprattutto che garantiscono e che mantengano quelle che sono le qualità più apprezzate dai consumatori quindi in questo connubio tra domanda e offerta abbiamo pensato a due casi studio quindi frutta e verdura minimamente processata o di quarta gamma e succhi e smoothies quindi frullati Ovviamente si tratta dei pilot trial quindi dei casi studio quindi dei progetti pilota che vedono direttamente delle imprese coinvolte che siano consumer oriented quindi che siano totalmente pensate sulla base della necessità dei consumatori Quindi che cosa ci attendiamo alla fine di questo progetto? Innanzitutto di fornire alle imprese dei metodi che siano alternativi rispetto a sanificazione e rispetto all'utilizzo di agenti chimici per lavare frutta e verdura nei processi produttivi Nuovi packaging quindi che siano soluzioni di imballaggio per preservare la qualità del prodotto Nuovi metodi di stabilizzazione per appunto sostituire la pastorizzazione soprattutto nel caso di frutta e verdura E' un impianto di sistemi di business quindi di modelli di business e nuovi sistemi di logistica che supportino appunto l'implementazione di queste tecnologie Che cosa ne viene fuori? Che i prodotti quindi sono sicuramente hanno una shelf life Quindi una durata di conservazione prolungata quindi più estesa Magari noi solitamente frutta e verdura Soprattutto quelli di quarta gamma quindi in bussata nell'arco di due giorni Noi gettiamo via incrementando così il problema dello spreco del cibo Invece con queste tecnologie che aiutano ad allungare la shelf life Si può arrivare anche a una settimana se non dieci giorni per la conservazione di questi cibi Giusto per dare un esempio un po' più pratico Aumentare il valore nutrizionale del 30% nel caso appunto di prodotti di quarta gamma Come ad esempio le insalate Ma del 70% fino al 130% per frullati e smoothies Perché si addizionano quindi con dei composti biattivi Ricavati dagli estratti e dagli scarti della produzione Per rendere gli alimenti ancora più nutriti E soprattutto ridurre lo spreco di cibo Quindi il food waste fino al 40-30% Perché? Perché abbiamo aumentato appunto la shelf life E dei prodotti freschi fondamentalmente Successivamente invece possiamo vedere Secondo me degli elementi interessanti Perché i consumatori per noi hanno accompagnato E stanno accompagnando tutta la durata di questo progetto Quindi in prima battuta abbiamo capito quali sono E abbiamo indagato su quali siano le richieste desiderate dei consumatori Ma come percepiscono questi consumatori Quindi noi tutti queste tecnologie innovative e non termiche Il problema principale è che per loro Ciò che è emerso è che è molto importante garantire la sicurezza Quindi per loro che si utilizzano diverse tecnologie Poco importa Premesso che comunque venga mantenuta la sicurezza degli alimenti Quindi fondamentalmente che ci nutriamo di un cibo Che sia sicuramente nutriente Ma soprattutto sicuro Che garantisca in qualche modo la nostra salute Nella slide invece successiva Quindi abbiamo visto dal punto di vista del consumatore Vediamo invece dal punto di vista delle tecnologie Vediamo invece che proprio la combinazione delle tecnologie non termiche Permette di raggiungere questi obiettivi che ci siamo prefissati In questa slide infatti vediamo come ad esempio in Spagna Ci sono delle aziende che stanno soprattutto testando metodi con ultrasuoni Con alte pressioni Piuttosto che tecnologie come le blue lights Quindi a luce blu O acqua attivata al plasma O acqua elettrolizzata Quindi sono queste le tecnologie non termiche Che in combinazione garantiscono i risultati Gli obiettivi che ci eravamo prefissati Nella slide successiva invece Vediamo proprio quali sono le tecnologie Allora vediamo ad esempio sulla sinistra gli ultrasuoni E sulla destra invece vediamo come vengono trattati questi alimenti Nel caso specifico vediamo qui l'insalata Piuttosto che i pomodori ciliegine Che sono tra i prodotti Quindi tra che hanno manifestato In cui abbiamo riscontrato più successo Nel senso che queste tecnologie effettivamente stanno funzionando E quindi le stiamo sperimentando presso proprio le imprese E siamo contenti di vedere come non solo a livello laboratoriale Quindi nelle università funzionano Quindi nei laboratori funzionano queste cose Ma anche appunto su scala industriale Questo che cosa premette? Premette che in un prossimo futuro Queste tecnologie possono sostituire quindi trattamenti non termici E quindi sicuramente possiamo avere dei cibi che siano più salutari E soprattutto che abbiano una vita Quindi un ciclo di vita più prolungato, più lungo Questa diciamo è la presentazione di Scelti Spero che vi abbia incuriosito Ovviamente il mio invito è quello di visitare il nostro sito Che è scelti.eu, quindi .eu E anche i nostri canali social Dove noi con regolarità informiamo appunto la nostra community Su gli avanzamenti, i progressi che stiamo facendo appunto Nell'ambito di questo progetto Intanto grazie mille E se avete qualche domanda mi fa piacere rispondere Grazie Ringraziamo davvero tantissimo Simona Mincione Perché con questo progetto Scelti Abbiamo avuto modo di vedere come L'innovazione, la tecnologia In qualche modo impattano sulla vita di tutti i giorni Anche dei consumatori E anche sulla filiera dei processi industriali Delle aziende che in qualche modo sono legate In questo caso a frutto e verdura E quindi l'innovazione, la digitalizzazione Presupposti per la sostenibilità Grazie davvero Simona Perché è un progetto estremamente interessante Che mi permette anche di cedere la parola Ad Elena Cadel Perché Elena con la fondazione Barilla Si occupa del rapporto che sussiste Tra alimentazione e digitalizzazione Tentando di comprendere come con la digitalizzazione Si può sviluppare innovazione E soprattutto recepire dati importanti per le imprese Elena possiamo approfondire il lavoro della fondazione Barilla E comprendere anche che cosa sta facendo la fondazione In questo rapporto dinamico tra digitalizzazione e alimentazione Prego Elena Grazie mille Buongiorno a tutti Grazie È un vero piacere essere qui Come mi è stato detto Io sono Elena Cadel Sono una ricercatrice di fondazione Barilla Chi è la fondazione Barilla? La fondazione Barilla non è la Barilla L'azienda Ma è un centro di ricerca multidisciplinare e indipendente Certo finanziato dalla casa madre Però che promuove un dialogo aperto tra scienza, politica, business e società Sia a livello nazionale che internazionale Il nostro lavoro si basa su tre obiettivi fondamentali Che sono Favorire la transizione verso modelli alimentari sani e sostenibili Poi educare una nuova generazione di consumatori Perché sia consapevole e informata sulle tematiche relative al cibo Non solo in termini di salute ma anche in termini ambientali E infine a livello di ricerca ci occupiamo di scambiare conoscenze, esperienze, best practices A livello sia nazionale che internazionale Da che cosa deriva la nostra motivazione ad agire? Di fatto se osserviamo le questioni relative ai sistemi alimentari La situazione ci appare per così dire paradossale Mi spiego meglio Siamo nel 2022 Ci sono ancora milioni di persone 811 per la precisione Che soffrono ancora la fame Nonostante i miglioramenti che sono stati fatti in questi anni Per arrestare la fame Negli ultimi anni i dati della FAO mostrano Che le persone che soffrono la fame Stanno tornando a crescere Paradossalmente però Mentre ci sono persone che non hanno da mangiare Ci sono più di 2 miliardi Miliardi di adulti che invece sono obesi o in sovrappeso E noi sappiamo che sovrappeso e obesità Sono due fattori di rischio Per l'insorgenza di patologie cronico-degenerative Nonché delle sfide Insomma per il nostro sistema sanitario Per la sanità pubblica Ed è bene che questi fenomeni Vengano contrastati fin dall'infanzia Pensando a questi paradossi Una delle domande che ci si pone con più frequenza Ma c'è cibo per tutti Queste persone che soffrono la fame Perché nel mondo non riusciamo a produrre abbastanza cibo In realtà se ne guardiamo alla produzione mondiale Nel suo insieme Intendo dire alla produzione di culture agricole Meno del 70% di quello che viene prodotto È destinato effettivamente al consumo umano Il 24% infatti è destinato all'allevamento del bestiame Mentre il 9% diciamo è destinato all'industria Per esempio per la produzione di biocarburanti La domanda quindi che sale da un po' il nocciolo Di questo secondo paradosso È con le culture agricole Che produciamo Chi vogliamo nutrire? Le persone? Gli animali? Le macchine? Ecco e mentre ci riflettiamo Su questo dilemma Cercando di trovare Di trovare i beneficiari Di queste nostre culture Ecco che un terzo del cibo prodotto Che per inciso sono 1,3 miliardi di tonnellate Dicevo un terzo del cibo prodotto Viene perso lungo la filiera O peggio ancora Buttato direttamente nei cestini Dalle nostre tavole Si tratta di una cifra spaventosa Che ha ripercussioni economiche Ambientali Perché abbiamo buttato via risorse preziose E il cibo che viene lasciato a marcire Ha un impatto sull'ambiente In termini per esempio Di produzione di gas Effetto serra emersi E ovviamente poi ci sono implicazioni Invece anche importanti implicazioni morali Visto che se potessimo distribuire Tutto il cibo sprecato Potessimo collezionarlo Cosa che vabbè non si può Però se potessimo raccoglierlo tutto Noi potremmo nutrire con facilità Tutti quei milioni di persone Che oggi soffrono la fame Che ripeto sono 811 Il covid Le guerre I cambiamenti climatici Stanno aumentando drammaticamente Questa cifra di anno in anno In generale Che cosa appare da questo quadro Così paradossale Oltre che angosciante Appare che stiamo consumando Più risorse Di quelle che possiamo Di quelle che ci possiamo permettere Perché immaginandoci di avere Dato 100 di possibilità Noi ne usiamo più di 150 E di questo passo In un futuro non troppo lontano Che noi Se tutto va bene Noi i nostri figli Vedremo Avremo bisogno di tre pianeti Per mantenere gli stili di vita attuali Dal punto di vista ambientale Noi sappiamo ormai Che la produzione alimentare Dal campo alla tavola Ha un grosso impatto sull'ambiente Sulla perdita di biodiversità Sulla compromissione Dei cicli dei nutrienti Sui cambiamenti Dell'uso del suolo E contribuisce Al cambiamento climatico A livello mondiale Infatti Le emissioni di gas Effetto serra Legate ai sistemi alimentari Nel loro compresso Possono contribuire Fino al 37% E non meno del 20% Insomma Secondo gli ultimi dati Dell'IPCC Che è tanto E infine Non va dimenticato Poi il consumo Di risorse idriche Ben il 70% Del consumo Di acqua dolce È associato All'agricoltura Come si interviene Su questi problemi Da che parte iniziare E che ruolo Può avere Il digitale In tutto questo Ecco Innanzitutto Come fondazione Barilla Siamo partiti Dalla base Seguendo Il filo narrativo Di questi paradossi Di cui vi ho parlato prima Ricordate Nutrizione Agricoltura E sprechi Abbiamo creato Nel 2016 Con quello che allora era L'Economist Intelligence Unit E oggi Invece È il Aiuto L'Economist Impact Uno strumento digitale Di assessment Di valutazione Chiamato Food Sustainability Index Che cos'è il Food Sustainability Index? È uno studio globale Sulla nutrizione L'agricoltura E le perdite E gli sprechi alimentari In 78 paesi Che abbiamo calcolato Rappresentano Oltre il 92% Del PIL globale E circa il 92% Della popolazione mondiale Con un mix Abbastanza equilibrato Di economia Ad alto, medio E basso reddito Non è uno strumento Esaustivo Questo va detto Però è comunque Uno strumento Molto completo Nel suo insieme Nella prossima slide Potete vedere La sua evoluzione In questi sei anni Siamo partiti Da un numero più esiguo Di paesi 25 E oggi siamo arrivati A 78 Con indicazioni Sempre più precisi Nel tempo Che adesso vediamo Nello specifico Per fare l'analisi Del sistema agroalimentare Il Food Sustainability Index Utilizza sia indicatori Quantitativi Che qualitativi Per capire Lo stato Delle perdite alimentare Degli sprechi E lo stato Dell'agricoltura Sostenibile E le sfide nutrizionali Ovviamente In questi 78 paesi Tra questi paesi C'è ovviamente L'Italia E immaginando Che a questo punto Potreste essere curiosi Di vedere La performance Su questi indicatori Ho preparato per voi Un piccolo riassunto Delle evidenze principali Ci tengo però A fare una piccola premessa Molto importante Il Food Sustainability Index Non vuole essere Un generatore Di classifiche Ma Un'analisi Di come vanno Questi tre elementi chiave Per il sistema alimentare Ovvero Sprechi Agricoltura Prenutrizione Ormai l'avete sentito Fino allo sfinimento Poi inevitabilmente Creando dei punteggi Si creano anche Delle graduatorie Ma ecco Ci tengo a precisare Che il tutto Non deve essere Trasformato Né in un giudizio Né in una competizione Detto questo L'Italia In generale Si posiziona Al sedicesimo posto Della classifica generale Un punteggio Ottenuto Grazie soprattutto Alle ottime performance Nella lotta Contro lo spreco E le perdite alimentari Perché Sono state fatte In questi anni Importanti misure Soprattutto politiche Pensiamo all'introduzione Nel 2016 Della legge Gadda Che sono state utilizzate Per arginare Questo fenomeno Sicuramente Dobbiamo migliorare Alcuni aspetti Relativi invece All'agricoltura Sostenibile In primis Il consumo d'acqua L'Italia Consume elevate Quantitative di acqua Per la produzione alimentare E il sovrasfruttamento Delle risorse idriche Desta preoccupazione Al momento Tuttavia Per esempio Sono in atto Politiche e iniziative Proprio per promuovere Una irrigazione Sostenibile Di cui per esempio Vedremo dopo Il digitale Può essere uno strumento Importante Anche a livello Di emissioni di CO2 Possiamo migliorare molto In quanto Sia la produzione Zootecnica Che le coltivazioni Sono responsabili Di un discreto Quantitativo Di emissioni Di CO2 Equivalente In un contesto In cui l'esposizione E la vulnerabilità A eventi Meteorologici Estremi Rimane ancora Molto alta Per diverse ragioni Tra cui anche La conformazione Morfologica Dell'Italia stessa Infine però L'Italia È uno dei paesi Con le aspettative Di vita Più alti al mondo Anche se abbiamo ancora Alti livelli Di sovrappeso E obesità Però per questo Esistono numerose Iniziative nazionali Per promuovere Un'alimentazione sana E sostenibile Fin dall'infanzia Basti pensare Per esempio Al nuovo piano Del ministero Dell'istruzione Il piano Rigenerazione Scuola In cui per esempio La sana alimentazione Dal campo alla tavola È presa in considerazione In tutto questo Qual è Il ruolo Del digitale Allora L'applicazione Di una serie Di tecnologie digitali All'interno Della filiera Agroalimentare Dal campo alla tavola Apporterebbe Tutta una serie Di benefici Su tutti e tre I pilastri Analizzati dall'index Quindi La tecnologia Non è soltanto Per l'agricoltura Ma anche Per combattere Quindi le perdite Gli sprechi alimentari Ci sono Dalle sia Nell'ambito Della ristorazione Per esempio Nell'ambito domestico Su tutti i livelli Della filiera E anche per migliorare La salute Delle persone Partiamo dall'Italia Abbiamo visto Che abbiamo Essere maggiormente In difficoltà Nella sezione Di agricoltura Sostenibile Da un punto di vista Digitale Ci sarebbero Indubbi Vantaggi Nell'implementazione Più estesa Di un'agricoltura Di precisione Grazie per esempio All'uso Dell'intelligenza Artificiale Sensori Di precisione Telecamere Della robotica Tutto Strumenti E strumentazioni Tecnologie Che sono già Presenti Ma andrebbero Implementate Su più vasta scala Poi bisogna Pensare a tutto il mondo Delle blockchain E dei dati Che migliorano E migliorerebbero L'efficienza La salvaguarda Dell'ambiente Facilitando Un utilizzo Più preciso Dei segnali Per esempio Della gestione Dell'acqua Del suolo Delle culture Ma anche Del bestiame Quindi non soltanto Dedicata All'agricoltura In senso stretto E chi ne gioverebbe tantissimo Da avere Chi avrebbe Moltissimi vantaggi Dalla digitalizzazione Dalla datificazione Dell'agricoltura Sarebbero proprio I piccoli contadini Pensiamo ai vantaggi Poi che potrebbero avere La possibilità Di accedere a piattaforme Con tecnologia Blockchain Ai mercati Informazioni E servizi Anche per i consumatori Si potrebbero superare Delle sfide importanti Mi viene da pensare Per esempio Quelle che sono Le sfide Riguardante La fiducia La trasparenza La tracciabilità Qui ci sono elencati Alcune delle principali azioni Che si devono fare Di base Diciamo Per garantire Come per esempio Garantire una connettività Adeguata sul territorio Generare Condividere dati Per una Governance Distribuita E sostenibile Investire Nella sensibilizzazione Nelle competenze Degli agricoltori Ma anche Nei Dei consumatori E qui è fondamentale Il ruolo dell'educazione Nel passare Da un'educazione Puramente alimentare A un'educazione Invece Che guarda il cibo Nel suo complesso Dal campo Alla tavola Però poi mi fermo Perché veramente Potrei parlare All'infinito Qui Quindi in conclusione Pur presentando Delle sfide Le tecnologie digitali Hanno già dimostrato Di aprire Eccezionali opportunità Ma non sono La soluzione Hanno per esempio Bisogno di un mix Di politiche organiche Di supporto Volte a garantire Non solo Che l'applicazione Di queste tecnologie digitali Non crei per esempio Nuove divisioni Tra singoli paesi O all'interno Delle state stesse Le politiche in questo caso Sono molto importanti Per supportare Questo nuovo Per il futuro Del digitale Detto questo Io mi fermo qui Vi ringrazio Per l'attenzione E vi ricordo Che qualora Vogliate approfondire Sia i temi del digitale Sia del food sustainability index Trovate due pubblicazioni Ad hoc Sul nostro sito Che sono scaricabili Gratuitamente E poi ovviamente Se ci seguite Sui nostri canali social Ci fa piacere Vi ringrazio E resto a disposizione Per delle domande Se ci sono Mi fa piacere rispondere Grazie tantissime Elena Che nel corso Della conclusione Della tua presentazione Hai sollevato Delle tematiche Che sono davvero importanti E che mi sono utili Anche per presentare Il lavoro di Sara In quanto hai ben detto Che la digitalizzazione E la tecnologia Sono importanti Per i consumatori Per le imprese Ma non sono tutto Se non sono adeguate A delle ottime O quantomeno buone Politiche di cooperazione Sul territorio Con la cittadinanza Con le imprese E anche con Le nostre istituzioni politiche Ebbene Mi approfitto Per salutare Sara Roversi Del Future Food Institute Che a Pollica Questo comune Nel Cilento E' riuscita Con una sinergia Tra cittadinanza Istituzioni E piccole imprese Agricoltori Presenti In questo contesto A lanciare Un campus Di innovazione E di sostenibilità Pollica E' divenuta Un prodotto Della diplomazia Del food Permettimi Sara Questo Etichettamento E in quanto Una realtà Davvero innovativa Perché il Future Food Attraverso L'innovazione L'analisi Dell'innovazione Ha compreso Che la più grande Innovazione Che l'Italia possiede E' la valorizzazione Della dieta mediterranea E questo E' riuscito A farla Anche Attraverso Quelle piccole Comunità Appunto Come Pollica Voglio ricordarla Cittadina Nel Cilento Nonché Tra le capitali Italiane Per la dieta Mediterranea Quale patrimonio Riconosciuto Dall'UNESCO E quindi Un lavoro intenso Che il Future Food Institute Sta svolgendo In tutta Italia Non solo Proprio Nel rafforzare Queste dinamiche Di diplomazia Del food Sara Possiamo approfondire Il campus Che state svolgendo Quali sono Le novità Anche Il rapporto Appollica Nel Cilento Che state svolgendo E qual è l'idea Il pilastro fondante Del Future Food Grazie mille Grazie mille Per questo invito E sono Molto Molto Contenta Di raccontarvi Oggi Dove siamo Arrivati Ma prima Di partire Da dove siamo Arrivati Penso che sia utile Spiegare un attimo A chi ci segue Che cos'è Il Future Food Institute Io sono Uno dei fondatori Di questa organizzazione Che è nata Circa dieci anni fa E ringrazio Chi mi ha preceduto Perché Penso che Dalla presentazione Di Fondazione Barilla Si capisca Il perché Abbiamo dato vita A questo istituto Questo istituto È nato Prima Che gli obiettivi Di sviluppo sostenibile Fossero annunciati Prima Dell'Expo A Milano Che è stato Il primo Grande evento Che ci ha fatto Connettere Alcuni puntini Nutrire il pianeta Energia Per la vita Nutrimento Pianeta Energia Vita Lo stesso anno Viene firmato L'accordo di Parigi E sempre nel 2015 Viene annunciata L'enciclica Laudato Si Il primo testo religioso Che comincia a mettere In equilibrio Uomo e pianeta Non possiamo Vivere sani In un mondo malato 2015 È stato un anno Che per tutti noi Che lavoriamo In questo settore È stata una benedizione Perché veramente Ha accelerato Il processo Di creazione Di consapevolezza Mondiale Sulla stretta Correlazione Fra la nostra salute E la salute del pianeta I nostri consumi E cambiamenti climatici Bene Il nostro istituto Quando è nato È nato Da un'esigenza Il fatto che io Ero un'imprenditrice Nel mondo del food Mi rendevo conto Che non facevo abbastanza Mi si è aperta Una grande finestra Quando mi sono resa conto Che ogni mia scelta Generava un impatto C'era qualcuno Che poteva stare bene o male Grazie alle mie scelte O il pianeta Poteva stare bene o male Grazie alle mie scelte E ho sentito L'esigenza di fare qualcosa O se non altro Mettere al corrente O coinvolgere Imprenditori E giovani Nel comprendere Queste interconnessioni In questi anni L'ecosistema è cresciuto È partito con una base A San Francisco Una in Italia Una in Giappone Ed è un ecosistema Che da sempre Si è basata su tre pilastri Il pilastro della conoscenza Con programmi formativi Master Programmi con le scuole Le nostre Otto Research Initiative Un pilastro della comunità Living Lab Living Lab Che accelerano processi di cambiamento E eventi Che ci permettono Di fare empowerment Delle comunità E una terza area Che si occupa Di ricerca e sviluppo A supporto Delle istituzioni E delle imprese Grandi o piccole Che siano Minuscoli agricoltori O grandi cooperative In Italia In India In Africa In America In varie parti del mondo Ecco perché Ci sentiamo Un po' responsabili Di tutto questo E se ti rendi conto Che c'è qualcosa Da mettere a posto E non lo fai Sei un po' colpevole E quindi abbiamo deciso Di cominciare a connettere Puntini E dare il nostro contributo Bene Io ho passato I miei primi Sette anni Del Future Food Institute A vivere in aereo O in aeroporti O in lounge Dove sono ora E questa comunità È nata E ha cominciato A generare Questo impatto desiderato Però con la pandemia Mi sono resa conto Che mi ero persa Un grande pezzo Per strada Perché sono sempre Andata a cercare L'innovazione Lontana da me Sono sempre andata A cercare Le connessioni Lontana da me E ho sempre parlato In questi anni Di cibo e sostenibilità Parlando di dieta mediterranea Senza avere l'umiltà Di fare qualche passo Nel mio paese E andare a scoprire Dove è nata E pensare che in realtà Siamo circondati qua Da tantissimo valore E risorse dormienti Che non abbiamo mai Sfruttato abbastanza E allora La pandemia mi ha regalato Questo incontro L'incontro con La comunità emblematica Unesco Della dieta mediterranea Pollica E le comunità emblematiche Della dieta mediterranea Sono sette E questo è uno Dei grandi Insegnamenti Che la dieta mediterranea Ci dà Il fatto che noi siamo figli Di questo meticciato E questa diversità È una ricchezza immensa L'età mediterranea Non è italiana L'età mediterranea È un patrimonio Dell'umanità Figlio di una ricchezza Di una contaminazione Culturale Unica al mondo Ecco Il nostro incontro Diciamo Ovviamente ha dato vita A tutta una serie Di ragionamenti E il fatto Del pensare Che c'è una enorme opportunità Allora Quando io sono andata A Pollica La prima volta In realtà Sono stata accolta Da un sindaco Abbastanza visionario Che mi ha detto Nel mezzo della pandemia Quindi con tutto chiuso E quei pochissimi treni Che ti dovevi dare Il certificato Salendo in treno Entrando in stazione Quindi in quei giorni lì Mi ha detto Ti faccio vedere Che cos'è per noi La dieta mediterranea Il primo posto Dove mi ha portato È stato Gli scavi Di Elea Velia E mi ha detto La dieta mediterranea Parte da Parmenide Da Zenone Dalle origini Della nostra filosofia Dal pensiero Perché c'era qualcuno Che 2500 anni fa Già parlava Di un equilibrio Uomo-natura E guarda caso A pochi chilometri Da qui A Salerno È nata la scuola medica Salernitana Che è nata Non dalla conoscenza Di uno Ma abbattendo barriere Culturali Religiose Dalla conoscenza Di molti Nata la prima Scuola medica Dell'Occidente Nello stesso posto La stessa scuola Ha accolto La prima donna Medico professoressa C'erano studentesse Medico Nel medioevo E nello stesso posto Dopo la guerra Gli scienziati Margaret e Hansel Per chi si trasferiscono Per studiare Perché le popolazioni Che vivevano In quel preciso Contesto Vivano più a lungo Non avevano malattie Cardiovascolari Non c'era Un'alta incidenza Del diabete Come in altre parti Del mondo E hanno cominciato A studiare E a mettere In correlazione I dati Capendo che C'era qualcosa Che accomunava I popoli Che avevano Più o meno Lo stesso stile di vita Così è nato Il tema E il concetto Dieta mediterranea Ma cosa ci facciamo Noi del Future Food Institute Lì Lì mi sono resa conto Che c'era una grande opportunità Perché il mondo E diciamo Le Nazioni Unite Tutte le organizzazioni Con le quali Noi lavoriamo Tanto parlano Di tutti questi temi E ci hanno dato Degli strumenti Molto chiari Da comprendere Pensiamo agli obiettivi Dell'agenda 2030 Infografiche Che anche i bambini Riescono a comprendere Però noi qua Abbiamo un patrimonio enorme Che va valorizzato 2500 anni Di identità Che si è consolidata E guarda caso Proprio in quel territorio Insiste Il Parco Nazionale del Cilento Che è uno dei parchi Con il più alto Tasso di biodiversità Al mondo E la biodiversità Si crea Si cura Si protegge Non è che c'è biodiversità Perché siamo fortunati E tutti dicono Come siete fortunati Che state in Italia Il bel paese E si crea perché Perché guarda caso Se in quel contesto C'è un altissimo tasso Di agricoltori Che praticano Agricoltura rigenerativa E guarda caso Lì è nato Il primo biodistretto Al mondo E c'è la sede Nazio internazionale Dei biodistretti Vuol dire che Pratiche agricole Che hanno a cura Le risorse E l'ambiente Hanno un impatto E che tutto è connesso E allora Lì è nato Assieme al Comune di Polica Una progettualità Che ha dato vita Ad un campus Un campus Che oggi Sta includendo Tutte le dimensioni Del Future Food Institute E una serie di laboratori Che vedo coinvolte Numerose università Italiane ed estere I nostri partner internazionali E progettualità Che si rivolgono Sia a studenti italiani Che a studenti internazionali Quindi il campus Oggi Ospita da un lato I nostri programmi Di studies abroad Programmi per le scuole Che vanno Dalle gite scolastiche I CTO I programmi Con le scuole elementari I programmi Per la formazione Dei docenti Della scuola italiana Quindi Per darvi un'idea Il campus Ha inaugurato A marzo scorso Sono già stati formati Oltre 300 ragazzi Nel campus E per quest'estate Da fine di marzo Ogni settimana C'è un programma In Un programma Che appunto Verrà ospitato E poi Ovviamente All'interno del campus È stato dedicato Un ampio spazio A cosa? A quello che diceva Elena Prima Le tecnologie Alle tecnologie Sperimentate sul campo E quindi Collaborazioni con il CNR Collaborazioni con start up Parliamo di block chain Sì La block chain È fondamentale Però il problema È che ad oggi In pochi Sono riusciti A metterla in pratica Come il consumatore Vorrebbe Perché fino a quando Il dato è inserito Dall'essere umano L'essere umano Può inserire Un dato sbagliato E quindi Io ti certifico Una bugia Ecco Lì abbiamo Una start up Che sta facendo cosa? Sta certificando L'alimento Una rivoluzione Perché analizzando I terroir Analizzando Gli alimenti Stanno lavorando Filiera per filiera Per catalogare Ogni possibile Variabile E stiamo cercando Che sottende Tutto questo Modello Dell'ecologia Integrale E quindi abbiamo Creato Un approccio Che si basa Su sei pilastri Vi invito A andare A visitare Il sito www.pollica2050.org Perché lì C'è un video E c'è una mappa Che spiega Quali sono Questi step E siamo partiti Da cosa? Dalla prima azione Un'azione politica Elena lo diceva Bene prima È fondamentale La partnership Pubblica privata Servono delle politiche Che ci permettano Di accelerare Tutto questo Non possiamo fare L'innovazione Da soli Se tu sei un innovatore E non hai Un dialogo Costruttivo Con una politica Che ti permette Di prototipare Dove andiamo? Da nessuna parte E quindi Un'azione politica Un'azione politica Che va Proprio A un braccetto Con quella che è L'innovazione sociale E l'innovazione Tecnologica Di cui noi oggi Abbiamo bisogno Un'innovazione Che parte da cosa? Da ridisegnare Un PUC Il piano Di sviluppo Del comune Il piano di sviluppo Rurale Il piano urbanistico Un piano urbanistico Che si chiama Foodscape Quindi La politica Si è messa in gioco E ha disegnato Un piano urbanistico Che ha gli stessi pilastri La protezione Delle risorse Il suolo Il tema Dei dissesti Idrogeologici Il fatto che Dobbiamo rimettere In coltivazione Il 50% Dei nostri terreni Agricoli Che sono stati Abbandonati Negli ultimi Dieci anni E quindi L'amministrazione Sta facendo La sua parte Dall'altra parte Abbiamo cominciato A ragionare Su quelle che sono Le verticali Che hanno a che fare Con l'ambiente E quindi E quindi Sperimentazioni E progetti Cercando Cercando di creare Un ecosistema Sano 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 Inclusive Un ecosistema dobbiamo occupare. In questo campus noi stiamo sperimentando tutto, dal tema della salute con la digital health al tema appunto del cercare di rimettere in piedi tutti i puntini e l'ecologia integrale è diventato per noi il modello, il framework sul quale sviluppare politiche, azioni, progetti di sviluppo. Quindi cibo è al centro e dieta mediterranea per noi è un modello e siamo dei folli a non vederlo quasi come un programma di governo come invece sta facendo il Portogallo, è partito dalla dieta mediterranea e sta lavorando su dieta mediterranea in tutte le dimensioni, dalle mense scolastiche a tutta la programmazione dello sviluppo agricolo di quella nazione. Noi abbiamo questo patrimonio e ce ne ricordiamo solo quando ci serve, quando ci serve a livello politico, quando ci serve a livello di comunicazione e questo patrimonio dovremmo sfruttarlo secondo me un pochino di più perché da lì impariamo tanto, impariamo tanto e dieta mediterranea ha come pilastro il convivio, ha come pilastro il tema della cura dell'ecosistema, la stagionalità dei prodotti, la salute dell'uomo e dell'ambiente e quindi da qui siamo partiti e soprattutto invito tutti e tutte, anzi le colleghe qui nel panel sono le prime che vorrei invitare perché c'è tanto da fare e quello è un contesto nel quale si può sperimentare, è un campus che ha un titolo Pollica 2050, quindi la visione è a lungo termine, le dimensioni che stiamo sviluppando devono essere sistemiche, le governance da sperimentare devono essere decentralizzate, quello che sta succedendo in questi giorni forse ce lo insegna perché quello che il mondo del digitale sta mettendo in campo forse ci sta insegnando che c'è una coscienza collettiva che è forse migliore della coscienza di qualche singolo e secondo me ci sono tante cose che nel nostro paese possono essere valorizzate a maggior ragione ora, è un momento in cui dobbiamo ripartire e bisogna farlo insieme. Grazie mille Domenico e grazie mille a tutti voi. Grazie mille Sara per questa, non ne avevo dubbi, interessantissima analisi che ha permesso anche di catalizzare l'attenzione su alcuni punti, innovazione, sostenibilità, cooperazione e anche condivisione dei dati attraverso piattaforme comuni. Ebbene, proprio su questa tematica ho il piacere di cedere la parola a Veronica Lattanzio del CNR perché stanno sviluppando un progetto di ricerca su appunto lo sviluppo di una piattaforma comune del food, quindi come la raccolta dati di tali analisi che in qualche modo abbiamo anche ascoltato nelle parole dei precedenti relatori, può essere utile alle imprese per avviare dei programmi di finanziamento in tema di sostenibilità e innovazione. Quindi Veronica puoi farci comprendere l'importanza di questa piattaforma comune del food e come attraverso le analisi e la ricerca si può rendere un futuro migliore per i consumatori e soprattutto per le imprese che sono al centro di questa filiera. Sì, allora grazie per la gentilissima presentazione e buongiorno a tutti. Posso dire che dopo aver ascoltato le colleghe stamattina in questo panel il mio personale obiettivo è stato già raggiunto e noi le contatteremo sicuramente poi in seguito perché il mio obiettivo, il nostro obiettivo come Food Safety for You era quello appunto di ascoltare altri attori del sistema food e anche, come dire, confortarci del fatto che siamo allineati, almeno in questo gruppo, nell'affrontare, nelle strategie che vogliamo implementare per affrontare le sfide future. Quindi il contesto mi conforta, devo dire la verità. Io vi voglio raccontare oggi la storia della piattaforma Food Safety for You che è nata da un anno per raccogliere una sfida ben precisa. Allora mi dispiace da una parte restringere un attimo l'ambito della conversazione alla sicurezza alimentare. Noi siamo una piattaforma multiattore per la sicurezza alimentare in Europa e siamo stati finanziati nell'ambito di un bando Horizon 2020 sul topic supportare il sistema sicurezza alimentare in Europa nel futuro. Da dove nasce questa esigenza? Perché è una call dedicata allo sviluppo di una piattaforma concentrata sulla sicurezza alimentare. Nasce, e c'è tutta una storia che non vi racconterò, ma nasce proprio dalla presa di coscienza che siamo in un momento di transizione in cui c'è una forte spinta alla trasformazione del sistema Food verso produzioni sostenibili, in cui dobbiamo affrontare sfide dovute al cambiamento climatico, capire che cosa succederà con il patto per l'economia circolare? Questo nuovo contesto che si sta evolvendo presenta nuove sfide anche in termini di sicurezza alimentare. C'è stata pertanto l'esigenza da parte della Commissione Europea su stimolo di EFSA di un attimo fermarsi, mettere a fattore comune tutte le competenze che esistono nel nostro sistema di sicurezza alimentare ed elaborare insieme delle strategie per affrontare queste nuove sfide. Molto brevemente, il nostro contesto normativo, il contesto in cui ci stiamo muovendo, qual è? L'agenda Food 2030, che come sapete ha 10 patto per action e uno di questi è proprio sicurezza alimentare per il futuro, è l'emanazione recentemente del nuovo... quindi l'agenda Food 2030 ci spinge a riflettere su quelle che saranno le nuove sfide in campo di sicurezza alimentare generate dall'innovazione tecnologica e quindi verificare che questa transizione sia sicura per il consumatore e supportare i gestori del rischio eventualmente ad adottare nuove misure. Nello stesso tempo è stata recentemente emanato l'emendamento della legislazione alimentare generale che punta fondamentalmente su due aspetti importanti. La sostenibilità del processo di analisi del rischio e quindi in parallelo la sostenibilità dei panel e di quello che l'EFSA fa nell'analisi del rischio e il rafforzamento della fiducia del consumatore. Allora questo è il contesto diciamo in cui nasce la nostra piattaforma, in cui nasce questo bando. L'ambizione qual è? L'ambizione è quella di creare uno spazio virtuale e fisico in cui far incontrare tutti gli attori del sistema sicurezza alimentare in Europa con un approccio multiattore ovvero la nostra deve essere un'interfaccia tra scienza, politica e società con l'ambizione di diventare poi un centro di competenza a supporto dell'EFSA e della Commissione Europea attraverso la co-creazione di input per la definizione del prossimo framework sempre nell'ambito della sicurezza alimentare. Perché? Perché diciamo c'è stata, prima la dottoressa parlava di risorse dormienti, la nostra percezione nel sistema sicurezza alimentare in Europa che ci siano delle risorse latenti e frammentate. Cioè siamo a un punto in cui esistono delle risorse ma il sistema sicurezza alimentare in Europa è un sistema sia come quadro normativo che anche come storico è molto articolato e funge da modello anche in altri continenti. Il problema qual è? Che c'è a volte un sbilanciamento delle risorse, una frammentazione e che non sempre tutti gli stati membri sono partecipi allo stesso modo. Questo vuol dire che ci sono delle voci più forti e delle voci un po' meno rappresentate per tutta una serie di motivi, non certo per mancata volontà che poi si traducono nell'impatto dei vari stati membri nella definizione poi delle future politiche e delle azioni per la gestione del rischio. Quindi in parte la nostra piattaforma come obiettivo è quello di supportare una migliore integrazione tra gli attori del sistema food, tirando fuori anche delle voci che sono meno rappresentate, non solo come categorie ma anche come stati membri, perché ricordo noi siamo un progetto europeo. co-creare delle strategie per l'allineamento dei programmi di finanziamento e delle priorità in materia di, in ambiti di ricerca, perché questo è diciamo prioritario per la Commissione Europea in questo momento, cercare di raggiungere un allineamento a livello nazionale e transnazionale e la nostra terza area di impatto è supportare un miglioramento della fiducia da parte della società civile in generale nei confronti del nostro sistema sicurezza. Queste azioni vengono svolte nell'ambito appunto o sotto la cornice del nuovo regolamento sulla trasparenza e sostenibilità che è stata in parte, vi ricordo, una risposta della Commissione Europea alle pesantissime perplessità espresse dalla società civile nei riguardi della trasparenza con cui l'EFSA svolgeva la valutazione del rischio, uno per tutti, vi ricordo il caso del rifosato. Diciamo non è questo il contesto di affrontare, però è questo il contesto in cui ci stiamo muovendo. Insieme, in sinergia con EFSA, cercare di rafforzare anche la fiducia dei consumatori e la nostra strategia qual è? Quella di un coinvolgimento attivo dal basso. La piattaforma quindi che cosa aspira a diventare? Noi siamo, come vi dicevo, partiti in gennaio 2021 e quindi ci stiamo via via formando e anche modulando rispetto a questo scenario che si sta evolvendo. La piattaforma diventerà un'interfaccia tra scienza, politica, società e la Commissione Europea. Adesso, in questi tre anni di cornice progettuale, la piattaforma si sta configurando come un luogo di accesso e di scambio, di che cosa? Di dati, di informazioni, di conoscenze. Che si sta configurando però attraverso una serie di azioni pratiche che poi vi andrò ad illustrare. E vi dico subito che in questa fase qui, e mi ricollego in questo agli interventi precedenti, la domanda che noi ci siamo posti è, tutti vogliono fare scambio di dati, tutti vogliono condividere conoscenze, non tutti sono pronti. Non tutti sono pronti per due motivi fondamentali. In certe categorie di attori manca un'educazione dove intendo proprio fiducia nella condivisione dei dati, fiducia nella trasparenza del processo, fiducia nella qualità dei dati che si vanno a condividere con altri. E da un'altra parte mancano molto spesso risorse. Condividere un dato non vuol dire semplicemente prendo quello che ho e lo metto in un sito web. Un dato per essere condiviso e riutilizzato da altri utenti deve essere un dato la cui qualità e affidabilità è verificata, ma anche condiviso in un formato che sia, come dicono i tecnici del settore, interoperabile. Questo non è scontato. Né per noi che siamo ricercatori, né per altri operatori del settore, soprattutto piccole e medie imprese, noi nelle mappature che abbiamo fatto nel costruire questa rete ci siamo resi conto, abbiamo preso contezza che esistono tantissimi generatori di dati nel sistema food europeo, ma non tutti sono in grado di condividerli. Per alcuni dei motivi che vi ho detto prima. E quindi diciamo questo è una, non voglio dire una barriera, ma è un'altra sfida da affrontare. E quindi quando noi pensiamo a input per la ricerca futura, noi pensiamo anche a questo, supportare la formazione e mettere in grado i generatori di dati, metterli in grado di condividerli attraverso strumenti economici e attraverso il trasferimento di conoscenze. Ovviamente a parte questo la piattaforma si sta configurando come un network, un network che vuole essere non solo esteso, ma capillare attraverso tutta l'Europa e adesso vi mostrerò quale è la strategia che noi stiamo mettendo in piedi. E diventerà poi alla fine della cornice al termine diciamo dei tre anni progetto, un network che si autososterrà e continuerà questo viaggio. Fatemi dire soltanto qualche numero, noi come soggetti beneficiari del finanziamento siamo 23 partner appartenenti a 12 paesi europei e il nostro è un consorzio multidisciplinare perché? Perché l'approccio multiattori è alla base di tutte le attività che stiamo svolgendo nel progetto. E quindi il nostro partenariato comprende enti di ricerca, comprende associazioni di industrie, associazioni di consumatori a livello europeo, comprende diverse autorità di sicurezza alimentare perché uno degli obiettivi appunto è quello di dialogare con gli attori istituzionali del sistema sicurezza alimentare e ovviamente comprende partner che hanno expertise in social innovation e in implementazione e sviluppo di strumenti digitali. A supporto di questo consorzio di 23 partner noi abbiamo una rete al momento di circa 50 supporting partner e mi preme sottolineare che 44 di questi avevano firmato la loro lettera di impegno già in fase di preparazione della proposta e altri si sono aggiunti adesso che la proposta è stata finanziata, la rete si sta costituendo e chiaramente è diventata più attraente. E questo diciamo ci ha confortate perché quando abbiamo cominciato a presentarci a cercare il supporto anche di altri attori abbiamo riscontrato un notevole interesse anche in quei paesi europei che normalmente non sono molto attivi nel contesto istituzionale diciamo che sta in piedi adesso. Quindi ci sono persone che hanno dato la loro fiducia anche in fase perché era una colla interessante con delle prospettive interessanti di partecipazione per il futuro. A questi si aggiungono circa un'ottantina di esperti indipendenti che collaborano all'implementazione delle azioni del progetto alcuni anche appartenenti ad attori istituzionali come l'Essa, le varie DG o il JRC. Nella rete dei nostri supporti in parte ne abbiamo altre 12 autorità di sicurezza alimentare. Ora come gestire questa rete e farla lavorare in maniera efficiente? Noi abbiamo pensato a un processo partecipativo riadattato per i nostri propositi. Questo processo partecipativo che abbiamo messo in piedi prevede l'attivazione progressiva di livelli di connessione partendo diciamo da un livello più basso fino ad arrivare diciamo ad un livello istituzionale. Allora che cosa abbiamo fatto nella pratica? Noi abbiamo letteralmente preso la cartina dell'Europa e divisa in quattro hub, in quattro aree territoriali. Perché? Quindi abbiamo un hub nord, sud, est e ovest. Perché? Ogni hub lavora come un nodo decentralizzato. Questo ci consente ed è gestito diciamo da un gruppo di partner. Questo che cosa ci consente? Ci consente di guardare le quattro aree territoriali in Europa con un occhio più specifico, più geograficamente orientato e ci permette di catalizzare esperti, attori del sistema food dalle quattro aree in maniera un pochino più capillare andando a coinvolgere, di includere. Quindi questa è la nostra prima fase, una fase di inclusione. Nel maggior numero di attori possibili c'è cercando di rappresentare sia i diversi stati membri, ma anche le diverse categorie di attori, da quelli istituzionali fino ad arrivare alla società civile. Ovviamente in questa prima fase noi ci siamo rivolti alle associazioni di categoria, associazioni industriali, associazioni di consumatori. Quindi questo è il primo livello che si è già attivato e che comincia a lavorare abbastanza bene. E in questo mi permetto di dire anche l'EFSA con cui noi abbiamo un'interlocuzione continuativa ha visto un importante aspetto di complementarietà. Il fatto che essendo noi un progetto di ricerca e quindi muovendoci in maniera più libera rispetto alle loro barriere, abbiamo la possibilità di coinvolgere in maniera più capillare e anche le risorse in questo momento tutti gli stati membri. Noi abbiamo tra i nostri partecipanti anche due associated countries che sono la Tunisia e l'Albania dove il sistema sicurezza alimentare è neonato e sente il bisogno di allinearsi all'Europa. Quindi sono perfetti ospiti direi per alcune direzioni pilota che noi stiamo sviluppando. Cosa fanno questi quattro hub? Recrutano esperti, ascoltano, raccolgono contributi e catalizzano e guidano questi esperti nei nostri quattro Living Lab che sono il secondo livello del processo partecipativo. Questi Living Lab sono stati, la metodologia più o meno è nota, quello che piace particolarmente a me che sono un ricercatore è che nei nostri Living Lab c'è uno spazio per la sperimentazione. I Living Lab di Safety For You sono quattro laboratori che si attivano tramite un core group di eventi esperti rappresentanti di diverse categorie, rappresentanti vari stati membri che sono collettori dei contributi dei quattro hub che fanno un'analisi di una problematica, immaginano delle azioni pilota e dopodiché c'è un periodo di quasi un anno in cui queste azioni pilota vengono sperimentate in alcuni stati membri, in quelli che noi chiamiamo pilot host. Il processo terminerà con la valutazione dell'impatto di queste azioni pilota che sono azioni piccole per motivi di tempo e di budget ma che possono costituire un modello per essere implementate in altri stati e quindi in questo contesto noi cosa stiamo sperimentando in quest'anno? Perché questo è l'anno in cui le azioni pilota si stanno implementando. Stiamo sperimentando una strategia per l'allineamento dei programmi di finanziamento e per la priorizzazione delle tematiche di ricerca, stiamo sperimentando una strategia per la co-creazione di una SRIA, in un'agenda strategica per la ricerca e innovazione, questo sarà il principale outcome che è atteso da questo progetto con un approccio appunto multiattore che parte dal basso, che coinvolge diverse categorie appunto di attori del sistema FUND. Stiamo disegnando e sperimentando nuovi modelli per la comunicazione del rischio e stiamo disegnando e sperimentando nuovi approcci per la valutazione del rischio con un ottio particolare a rischi emergenti, ovvero quei rischi, quelle contaminazioni alimentari che noi, i nostri aspetti si aspettano, diventeranno preponderanti o comunque potrebbero meritare attenzione in un'ottica di economia circolare, quindi di riciclo delle risorse e quindi che cosa succede? Questi rischi emergenti, che da un punto di vista scientifico sono già abbastanza noti, necessitano poi da un punto di vista dell'analisi del rischio di strumenti normativi, di metodologie armonizzate e quindi probabilmente della raccolta di nuove tipologie di dati. Quindi questo è quello che uno dei nostri Living Lab sta sperimentando in questo momento. Tutto questo, si parla qui di digitalizzazione, questo processo partecipativo viene facilitato dalla modificazione e implementazione di alcuni semplici strumenti digitali. Il nostro obiettivo non è tanto quello di innovare in termini nuovi tool digitali, ma è quello, e si sta rivelando, vi devo dire, molto interessante di digitalizzare metodologie per lo studio di sistemi che fino ad ora erano metodologie che prevedevano incontri fisici e il lavoro di esperti al tavolo. Questo l'abbiamo fatto sia per i nostri Living Lab, che adesso sono tutti digitali, l'abbiamo fatto anche per esempio per la NetMap Analysis, che è una metodologia per l'analisi di sistemi che abbiamo completamente digitalizzato. Stiamo volgendo al termine, vedo nella chat, quindi non entro nel dettaglio, ma questo volevo sottolineare. Con il Covid abbiamo tutti tirato fuori la nostra resilienza, ci siamo riadattati, noi abbiamo dovuto ridisegnare completamente la metodologia del nostro progetto per favorire comunque la inclusione il maggiore possibile e abilitare tutti i nostri esperti da tutte le parti d'Europa a partecipare e a dare il loro contributo. Chiudo velocemente dicendo dove stiamo andando. Questo processo dove ci porta? Ci porta all'European Food Safety Forum. L'European Food Safety Forum sarà l'ultimo momento di questo progetto, il primo passo di quello che succederà dopo. Questa piattaforma e i nostri soggetti coinvolti definiranno le regole per la loro collaborazione permanente e questa piattaforma diventerà un'interfaccia stabile tra scienza, politica e società che presenterà in un momento istituzionale che sarà l'European Food Safety Forum di dicembre 2023 le soluzioni co-create, le nostre proposte, le nostre strategie alla Commissione europea. Questo rappresenterà il momento finale di questo viaggio come vi dicevo ma il primo di una serie di appuntamenti periodici in cui i membri di questa piattaforma continueranno ad aggiornare le strategie e le soluzioni proposte attivando probabilmente nuovi processi partecipativi su nuove tematiche in maniera tale diciamo da restare aggiornati appunto con questo scenario che si sta rapidamente evolvendo. Io direi che mi fermerei qua e così diciamo resta qualche minuto anche per le domande e per la chiusura. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille Veronica Lattanzio del Consiglio nazionale delle ricerche anche per queste riflessioni estremamente interessante che ci hanno fatto comprendere anche l'importanza di questi processi nel sistema europeo, interessante anche questa suddivisione nei vari hub e devo dire che sono emerse delle dinamiche comuni soprattutto quando la dottoressa Lattanzio parlava di sopportare la formazione e la diffusione di conoscenze. Ebbene proprio a tal riguardo mi permetto una domanda veloce ad Elena Cadele della fondazione Barilla perché prima nella sua relazione vorrei argomentarsi un pochino in più questo aspetto parlava proprio dell'importanza del lavoro che si può fare attraverso la formazione, l'innovazione e la didattica per le giovani generazioni. A tal riguardo cosa sta facendo la fondazione Barilla? Grazie Domenico per questa domanda. La fondazione Barilla in questo momento ha due progetti all'attivo con il mondo dei docenti e il mondo della formazione dei giovani. Abbiamo un progetto europeo chiamato Skilled for Food dedicato proprio all'implemento di una matrice di competenze per insegnare la sostenibilità attraverso i temi del cibo. È un programma dedicato ai docenti il cui obiettivo proprio è quello di sviluppare tutta una serie di capacità, competenze, conoscenze proprio per essere specializzati nell'insegnare proprio questo tipo di sostenibilità proprio attraverso il cibo, partendo dall'agenda 2030 fino ad arrivare poi a quelle che sono le competenze specifiche relative al cibo, i cui principali argomenti abbiamo visto prima. E poi abbiamo invece un programma chiamato Noi il cibo, il nostro pianeta, dedicato invece alle scuole di ogni ordine grado, che invece lavora proprio su diverse tematiche, ogni anno ne si sceglie una. Quest'anno per esempio abbiamo portato avanti il tema del cibo e cultura, in quanto la cultura, come diceva prima anche la dottoressa Roversi, è importantissima per quanto riguarda le nostre radici, la nostra storia è fondamentale anche in ottica di sostenibilità, senza cultura rischiamo di applicare tecnologie che poi rischino di non essere accettate, di non essere capito, di non trovare i tempi giusti di applicazione e quindi è molto importante conoscere anche il contesto culturale in cui ci si trova, in cui ci si omiga. La cosa fondamentale però dal punto di vista educativo è proprio quella di passare da una semplice educazione alimentare e quindi un'educazione focalizzata soltanto sui temi del cibo stesso, a un'educazione invece più a 360 gradi che guarda il mondo dell'alimentazione dal campo alla tavola. In un mondo sempre più globalizzato, sempre più connesso, sarebbe estremamente riduttivo pensare all'alimentazione solo come una cosa nostra. Noi siamo connessi a questo pianeta, è una sorta di one health approach, un approccio dove la salute nostra e la salute del pianeta, inevitabilmente dobbiamo guardare a 360 gradi questo percorso, quindi la nostra salute è la salute del pianeta e dobbiamo iniziare proprio fin da piccoli a imparare a prenderci cura entrambi di questi due aspetti. Grazie tantissimo Elena anche per la riflessione ulteriore su questo aspetto così importante sull'apporto tra formazione, didattica ed educazione anche alla corretta alimentazione e direttamente che siamo giunti in conclusione dei nostri lavori, mi piacerebbe svolgere e fare anche tantissime altre domande, però purtroppo i tempi ci richiamano all'attenzione e salutando nuovamente tutti i nostri relatori, è stato un bel piacere sperando che possa essere utile anche per sviluppare ulteriori sinergie tra i relatori stessi che oggi hanno partecipato a questo importante panel, come ho avuto modo di comprendere vi saranno delle dinamiche da sviluppare, quindi già questa è una grande vittoria, oltre quella di riuscire ad appassionare i nostri partecipanti a questa fiera digitale, alla GECO Expo e restando sempre in linea con le nostre tematiche, ritornando anche al succo dell'economia domestica, diamo spazio al Green Talk successivo al nostro panel affrontando la tematica dell'economia domestica, quindi come anche Sara Roversi ha avuto modo di accennare prima quando si parlava del rapporto nelle piccole comunità, sappiamo che pulire, lavare, stirare, cucinare, preparare, tutto ciò che appartiene alla nostra vita quotidiana ha in qualche modo un impatto importante oppure no, comunque ha un impatto all'interno della qualità della nostra vita, dell'ambiente e anche sul benessere delle famiglie e dell'ambiente sociale in cui viviamo. E proprio per comprendere queste dinamiche sull'importanza appunto di un'ottimizzazione dell'economia domestica, diamo spazio al nostro Green Talk con Rosaria Rogasi, educatrice di economia domestica e Salvatore Insolia, facilitatore appassionato di sostenibilità e entrambi fanno parte della cooperativa sociale EVEKEIA, spero di averla pronunciata bene, se non i relatori successivi mi correggeranno e cerchiamo di comprendere come ottimizzare l'economia domestica anche attraverso questi processi di sostenibilità e anche attraverso la promozione di questa conoscenza collettiva e di condivisione di idee che in qualche modo abbiamo anche compreso dall'importanza di questo panel. E soprattutto mi permetto, come ricordava qualcuno, è anche molto interessante, tolta la mia figura come moderatore, comprendere come il futuro in questo caso è delle donne, perché sono loro che diventano protagoniste e promotrici di innovazioni, sostenibilità e successo anche per il nostro pianeta. Quindi ringraziando nuovamente tutti, spazio al Green Talk e un carissimo saluto da Domenico Letizia.